Aspetta Canale di Sophie Candy Prima la seconda cinecittà World Hola Framingo Ciao Nicarnia e bentornati In questo nuovo video Non vi ho potuto farle riprendere Perché ora sono andata via Per peccato Perché ci siamo troppo divertiti Quindi non ho pensato al canale Però devo dire che è stato molto istante Molto bello Sono andata sull'inferno Sono andata sull'inferno C'è anche la foto C'è io spaventatissima Mio padre che si divertiva Io con gli occhi così Io ci volevo andare Pensavo che no vabbè Tutto normale Invece Poi a un certo punto siamo caduti C'è mi so che era successo C'è papì a me come è stato Quando siamo caduti È stato divertentissimo Ma come siamo caduti Come siamo caduti Ma che siamo caduti Siamo passati da una Da una Rotaglia ad un'altra A livello più sotto Lasciandoci cadere nel vuoto Sto E' stato divertentissimo Non abbiamo ripreso le gioste Perché ci siamo divertiti da matti Mio padre stava riprendendo E' stato divertente da un po' con il telefono Non si deve stare attenti davanti a me E' stato attento al telefono Va bene Salutiamo? No Non ti provare Non saluteremo I nostri papi Oggi è me È stata una giornata bellissima Mi sono comprato anche il shock Che per fare l'entro del video Oggi ragazzi sarà tutto così Sarà tutto così Come l'entro del video Così Come questo shock di CineCita World Spero che diventi molto famosa Grazie a vostri like Mettete like Mettete like Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Per non perdervi nessun altro video E noi ci vediamo alla prossima Ciao I commenti non ce li fanno fare purtroppo Non si può Ciao 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 Ciao